ciao bella gente benvenuti nel mio canale oggi sono andata a fare un giretto all'ikea e quindi ho deciso di farvi un video sulle varie oggettistiche per la cucina e le varie novità che ci sono mi raccomando se vi piace questo video se vi piacciono i miei video lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arrivano tutte le novità e soprattutto se avete bisogno che vi faccio vedere una parte dell'ikea oppure volete vedere un prodotto che vi piace e l'ikea è lontana da voi non c'è problema io ho l'ikea a 7 km da casa mia quindi basta chiedere vi faccio video personalizzati e non c'ho assolutamente nessun problema buona visione che ci sono le fordini benené sono le fordini anche le fordini anche state Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.